In verità era uno spirito libero che disprezzava le convenzioni. Giamavamo e a lei bastava così. Era bella, sai? Aveva una voce meravigliosa. Per sentirla venivano da tutta la Sicilia. Tu avevi tre anni. Eravamo felici. Ma poi lui l'ha vista e ha deciso che la voleva. L'ha avvicinata e lo conosceva di fama. Sapeva che non era un uomo al quale si potesse dire di no. Ha provato a prendere tempo, a sfuggirgli. E tu non hai fatto niente? Non me lo disse. Me lo nascose perché aveva paura che potessi fare qualche sciocchezza. Pensava di poterlo tenere a badadine. E invece... Alla fine lui l'ha presa con la forza. Lei si è difesa. Resistito. E lui l'ha massacrata di botte. L'ha massacrata di nei suoi Grazie a tutti